Mancano i fondi per le scuole paritarie, per questo motivo la Lega Nord in particolare in Veneto che cosa chiede al governo? Chiede di sbloccare questi fondi che effettivamente ci sono, sono 275 milioni di euro che sono bloccati al MIUR e per un problema di procedura, un problema informatico fondamentalmente di mancanza di comunicazione fra il Ministero delle Finanze e quello dell'istruzione, non vengono erogati alle scuole paritarie. Questo crea un autentico dramma per queste scuole che suppliscono ad una funzione che lo Stato non è in grado di svolgere, perché basti pensare che nel Veneto il 67% delle scuole materne sono gestite da scuole paritarie, quindi lo Stato non sarebbe in grado comunque di svolgere questa funzione e lasciamo queste scuole, i loro alunni e le intere famiglie nell'incertezza di che queste scuole sopravvivano per un problema burocratico e per un intoppo che è assolutamente grave e che rischia appunto di farle morire. Di quante scuole e quanti alunni stiamo parlando in Veneto? Guardi, solo a Vicenza che è una delle province dove è maggiore la presenza di queste scuole sono 16.000 alunni dei 3-6 anni più altri 1.000 bambini degli asili nido. Ovviamente se queste scuole dovessero chiudere per queste inadempienze gravi dello Stato avremo l'equivalente numero di famiglie in gravi difficoltà.